Io mi ricordo personalmente quando lessi il Vangelo di Marco, è il mio preferito perché è il più vecchio, quello che si dice che San Pietro ci ha inciampato per strada, è proprio quello essenziale, dove Gesù è proprio protagonista con una luce meravigliosa, semplice, umile, e il primo miracolo che fa nel Vangelo di Marco guarisce la suocera di Pietro. Va a casa di Pietro con Pietro e Andrea e Giacomo e Giovanni, è anche una bella rivincita per tutte le suocere, il primo miracolo di Gesù, aspetta, gli dice, c'ho mia suocera che sta a letto malato, e Gesù va lì per guarirla e Pietro non gli dice, lascia fare mia suocera ormai malata. No, non lo ferma, non lo ferma e la guarisce, ma perché la guarisce? Dice il Vangelo perché subito dopo lei si mise a servirli, gli preparò un pranzetto, Gesù la guarì perché voleva fare un pranzetto semplice, sobrio con loro, è una cosa bellissima. Io, quante volte sta storia, è il primo miracolo del Vangelo di Marco, è una cosa bellissima.